Federico Fellini diceva che fare un film è come scrivere una lettera d'amore stando sul lotto volante. Dobbiamo emozionare ed emozionarci mentre teniamo sotto controllo una serie di variabili. In questo corso noi impareremo a scrivere un cortometraggio della durata di 10 minuti a partire da una vostra idea adatta per il grande schermo. Io sono Sara Benedetti e vi aspetto al corso Classify della scuola Holden Raccontare con il cinema.